azione vuoi fare davvero qualcosa di importante che conti davvero per chi? tu avevi una carriera papà prima di cominciare a girare il telso film da supereroe prima che la gente si dimenticasse chi c'era sotto quel costume da uccello stai facendo uno spettacolo basato su un libro scritto 60 anni fa la cui unica preoccupazione è quella di sapere dove andare a mangiare quando sarà finito e diciamoci a papà non lo fai per l'arte lo fai per sentirti rilevante come un tempo sai che ti dico? là fuori c'è un intero mondo fatto di persone che provano a sentirsi rilevante ogni singolo giorno e tu ti comporti come se questo non esistesse soggetto una cosa in un mondo che tu ignori un mondo che tra l'altro ti ha già dimenticato insomma chi cazzo sei tu? odi twitter, odi le blog, non hai una pagina facebook sei tu l'unico che non esiste e fai questo soltanto perché hai paura esattamente come tutti noi che non li porti a nessuno sai che ti dico? è vero non conti, non è importante tu non sei importante, facci l'abitudine sei tu l'abitudine